Manca tanto, manca tanto il gruppo, manca tanto il paese, perché era impegnato molto anche nel paese, a livello di parrocchia, e tutto diciamo nel paese era sempre presente. Ed è già incolmabile la mancanza di Graziano Bortolotto, 67 anni, camionista in pensione, morto ieri pomeriggio in un tragico incidente stradale sulla statale Alemagna. A provocare l'incidente una Ford Focus, con a bordo un 29 anni del posto, che ha falciato lo scooter di Bortolotto, che a causa dell'impatto violento al suolo è morto sul colpo. Alpino, alfiere consigliere e amico sincero, è così che lo ricordano i suoi compagni del gruppo Alpini di Ogliano. Persona sempre disponibile, magari qualche volta sembrava un po' schivo, però non era così. Forse era il suo modo di fare, il suo carattere, però molto molto associevole e disponibile sempre, sempre, sempre. Lavoratore, gran lavoratore. Donatore Avis, marito e padre di famiglia, una beffa del destino, quella che la vita ha riservato a Graziano Bortolotto, dopo anni e anni passati a macinare chilometri alla guida del camion sulle strade di tutta Italia, ha perso la vita, pochi passi da casa. In casi così non possiamo darsi una ragione, è difficile darsi una ragione. Era pochi passi da casa. Eh, anche quello. E pensare che ha fatto quasi tutta la vita l'autista con il centri di camion, gli è sempre andata bene, e la sua fine l'ha fatta proprio sulla strada.